Fra gli antichi greci, Ade indicava sia il luogo dell'oltretomba, sia il dio che vi presiedeva. Ade era figlio di Crono e di Rea, del tempo e della terra, fratello fra gli altri di Zeus e di Poseidone ed era uno dei dodici dei dell'Olimpo. Sembra che la radice del suo nome lo indichi come lo scuro e la sua figura è venerata, temuta e fin anche odiata per ciò che rappresenta. Omer lo chiama l'implacabile, l'indomabile. Nella sua versione romana il suo corrispondente Plutone è una figura dipinta con contorni meno terribili perché associa le caratteristiche di Ade appunto l'implacabile, il terribile, e di Pluto una figura disgiunta nella mitologia greca dai contorni meno definiti e più positivi perché dispensatrice di ricchezze, di tutte quelle che la terra nasconde come i semi per il nuovo raccolto e metalli preziosi. La funzione fondamentale di Ade e dell'Ade, quindi della figura e del luogo, rimane comunque l'accoglienza delle anime dei morti. Platone disse che ci fu già al tempo di Saturno, cioè di Crono per i Greci del padre di Ade, una legge per la quale tutti quegli uomini che vivendo erano stati giusti e buoni, morendo poi ne andassero alle isole dei beati e al contrario chi avesse operato male in vita dopo morte fosse meritevolmente punito in luogo a ciò deputato. Ma, continua il racconto, i governatori delle isole Beate e lo stesso Plutone andarono da Giove protestando che molti si recavano presso quelle isole senza averne il merito. Giove comprese che la ragione di questo disordine risiedeva nel fatto che gli uomini venivano giudicati prima che morissero ed essendo ancora vestiti del corpo mortale. E perciò, molte anime empie e malvagie hanno ardire di presentarsi ai giudici come buone, perché coprono la malvagità loro con la bellezza del corpo, con la nobiltà del casato e con la splendidezza delle ricchezze. Né, mancano loro testimoni quali dicano che in tutta la loro vita furono sempre buoni e giusti, come sono moderni questi antichi. Fu così stabilito che gli uomini non dovessero più conoscere l'ora della loro morte e che una volta spogliatesi del corpo mortale dovessero decarsi con la loro anima nuda al campo della verità, dove i figli di Plutone, Minosse, Radamante ed Eaco, anche essi già spogliatesi del corpo mortale, potessero vederli nella loro nudità per quello che erano veramente e così poterli giudicare. È tempo di scendere un po' più nel dettaglio. Dopo averci descritto il contesto perché si possano comprendere meglio e meglio rappresentare, è tempo di dare un volto alle figure dell'aldilà. Plutone fu Dio o re dei morti. Facciamo ritratto di lui secondo le favole, le quali lo fanno stare in inferno sedendo come re sopra un alto seggio. Egli è di colore fosco e ha in capo una corona di negro ebano, tinta della scurezza dell'ombrosa notte. Lo scettro che tiene in mano è piccolo perché mostra il regno di questo basso mondo. Un po' più sotto dice Egli ha un elmo, come disse Omero. E secondo le favole, l'elmo rendeva invisibile chiunque lo portava, in modo che, vedendo lui gli altri, E non era appunto veduto. Pindaro finge che Plutone abbia in mano una verga e dice che egli con questa conduce le anime in inferno. E alcuni gli posero una chiave, come che egli così tenga serrato il regno dell'inferno, che le anime, una volta colà discese, non possano uscirne più mai. Più avanti viene descritto anche il suo carro. A costui, dettero gli antichi, un carro tirato da quattro ferocissimi cavalli negri che espiravano fuoco. Ma attenzione alla differenza con l'aldilà romano, come vi accennavo sopra. I greci avevano un altro dio delle ricchezze, chiamato Pluto, diverso da Ade come immagine, perché Aristofane lo descrive uomo cieco e dice che Giove gli cavò gli occhi. Luciano Parimenti lo fa non solo cieco, ma anche zoppo, e che si sposta con una lettiga talora, ma che talora è invece veloce nel camminare. Questo perché si dice che sia veloce nell'are le ricchezze e i malvagi, e che invece, quando le porta i buoni, vada a passi lenti. Quando ci troviamo di fronte ad un brano di letteratura, sia esso sacro o profano, scopriamo spesso che il racconto di un luogo può nutrirsi anche di contraddizioni, può suscitare immagini differenti in chi legge o essere addirittura soggetto a interpretazioni. Un luogo può non essere descritto, ma solo suggerito o evocato, diremmo in termini pittorici, abbozzato. Questa caratteristica si riscontra tanto più se si tratta di un luogo altro, lo spazio della divinità o dell'altrove, un luogo di cui per sua natura nessuno ha testimonianza diretta, e che quindi non è descrivibile nel senso letterale del termine, cioè non è confinabile entro parole. Ma la necessità di dover rappresentare visivamente queste immagini letterarie ha generato nel tempo l'esigenza di dare loro un ordine, di fare una scelta, insomma, in ultima analisi, di dare agli artisti delle indicazioni precise. Un lavoro di continua revisione dei testi per trarre immagini che fossero al tempo stesso comprensibili e rispettose della fonte era stato fatto per secoli da coloro che scrivevano i programmi iconografici delle illustrazioni di stampo cristiano. La quasi totalità degli artisti, pensate ai pittori, ai frescanti, dei grandi cicli delle chiese, aveva alle spalle studiosi di testi sacri. La stessa cosa successe per l'interpretazione dei testi letterari antichi, di matrice, diciamo così, pagana, esclusi pressoché completamente dalla rappresentazione nell'Occidente cristiano per molti secoli, gli dei greci e gli dei latini tornarono ad essere raccontati e rappresentati nel nostro Rinascimento. Fu quindi necessario fornire agli artisti testi di riferimento che li aiutassero a districarsi fra opere letterarie antiche di cui per la maggior parte gli artisti stessi erano digiuni. Nacquero così dei veri e propri manuali dedicati nello specifico agli artisti e fra questi un'opera che conobbe un grandissimo successo è quella da cui vi ho appena letto questi brani. L'autore Vincenzo Cartari nella seconda metà del Cinquecento pubblicò questo libro dal titolo Inequivocabile Immagini degli dei degli antichi. Vi ho letto i passi che riguardano nel regno di Ade ma altre figure in realtà si muovevano nell'orizzonte inquietante del passaggio tra la vita e la morte ed erano le moire. Le descrive così Esiodo nella Teogonia. Per seconda Zeus sposò la splendida Temis che generò le ore che vegliano sulle opere dei mortali e le moire cui grande onore diede Zeus prudente Cloto Lachesi e Atropo che concedono agli uomini il bene e il male un dè che stando tutte e tre insieme a filare alle vite dei mortali teneva una Cloto la più giovane e lo conocchia e tirava il filo l'altra Lachesi di maggiore età l'avvolgeva intorno al fuso e la terza Atropo già vecchia lo tagliava. Il libro di Cartari conobbe una quantità di ristampe e di eredizione nel giro di pochi decenni fino ad essere affiancato e poi surclassato dalla celeberrima iconologia di Cesare Ripa. Tuttavia ciò che fu tratto da queste descrizioni fu praticamente solo l'immagine della singola divinità per come poteva essere interpretata in ambiente cristiano e preferibilmente colta nella sua interazione con gli umani. A maggior ragione nel caso di Ade divinità come abbiamo visto oscura e terribile che troviamo per lo più ritratta nel tema celeberrimo del rapimento di Proserpina o Persephone. Ma prima di giungere a rappresentazioni visive dell'intero panorama dell'aldilà greco si dovette rattendere secoli. I luoghi del regno degli inferi erano stati mutuati dall'orizzonte cristiano e a quest'ultimo si riferivano sia le figure Carondimonio Cerbero le stesse anime vaganti sia i luoghi. Se ci pensate erano altre le inquietudini che si agitavano nei confronti dell'aldilà e l'oltretomba il regno delle ombre non era più quello antico. Dal Medioevo in poi gli iconografi e quindi i pittori andavano disegnando un ritratto del mondo degli inferi secondo la tradizione cristiana traendo immagini e significati da quell'inferno di stampo dantesco che aveva tinte molto più credibili molto più vicine e molto più spaventose. Tuttavia sarebbe un errore pensare che le ombre lunghe dell'aldilà greco siano state semplicemente inghiottite da una società che cercava nelle divinità dell'Olimpo solo occasioni per rappresentare dei abbondanti e felici o dei corrucciati ma tanto umani. L'ade greco fu qualche volta evocato in rappresentazioni destinate solo alla visione privata ma perlopiù le sue ombre rimasero semplicemente sopite a lungo. Furono risvegliate verso la fine dell'Ottocento dai simbolisti mittele europei perché erano cambiati i tempi. Le certezze del mondo cristiano non erano più tali ma era necessario comunque era umano se ci pensate riferirsi ad un'aldilà qualunque esso fosse forse anche per dare forma ad altri nubi inquietanti che si stavano addensando sul mondo occidentale all'alba del nuovo secolo.